Servizio sanitario nazionale, perché è importante? Un servizio pubblico di sanità efficiente è anche un bene per l'economia di questo Paese. L'efficienza del servizio sanitario significa meno malati cronici, significa meno affollamenti negli ospedali, significa meno code ai centri di pronto soccorso. E' bene che sia così anche molto semplicemente per migliorare i conti pubblici. Più la sanità anche preventiva funziona, meno la sanità peserà sui conti pubblici. Per cui questa è un'altra ragione per tornare ad avere un servizio sanitario nazionale efficiente. Ne parliamo a Roma il 23 e 24 ottobre. Grazie a tutti.